Siete qua, siete qua, siete qua vicino a me e quindi oggi vi voglio raccontare una storia Bellissima, la formazione per i giovani è fondamentale perché nelle scuole si impara tante cose, l'allungamento dei capelli un pochino meno perché si è sempre considerata che sia solamente una moda estendere i capelli Secondo le notizie storiche sono 3.000 anni che le persone si allungano i capelli, hanno trovato anche mummie di 3.000 anni fa anche con 100 giocche montate, fantastico Quindi è perché noi teniamo questa epoca e ci rendiamo conto solamente da adesso, noi addenti ai lavori andiamo un pochino in profondità per capire piccole aneddoti che possono aiutare la persona a gestire l'allungamento dei capelli Anche perché io personalmente consiglio l'estensione dei capelli non uno strumento solo di bellezza ma è uno strumento veramente molto importante che prende tutti gli aspetti della persona, sentimentali, creativi, autorealizzazione Mi riempio di responsabilità per aiutare le persone a evolversi, la filosofia, il cambiamento di costume e tante altre cose simpatiche per prendere e avere argomentazioni E' un percorso, non è solamente un corso ma è un percorso che spero nelle prossime dirette cambiando prospettive Ciao